Lavagna parietà, viì, c'è un bambino. E viì, viì, la parietà, la parietà, colcuna, colcuna, e oggi parietà 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 il fashql! Che vi, l'ettività non sono finite, We are with not fish. Se volete giocare, se volete giocare, venite qui e lasciate il vostro nome con il vostro Francesco. E se volete giocare lasciate il nome del nostro Francesco If you wanna play just come here and leave your name in Francesco Se volete giocare vedete il suo nome con Francesco Se volete giocare, se volete giocare iniziamo adesso un altro gioco Con la vostra animazione potete lasciare il vostro nome con Francesco Se volete giocare, se volete giocare e se volete giocare E se volete giocare, se volete giocare, se volete giocare Per cui mi chiede giocare? un altro gioco con equipe d'animaçò un altro gioco con equipe d'animaçò è solo le chansionale con Francesco il nostro guilello è il nostro guilello, non lo so Iniziamo un altro fantastico gioco con l'equipe d'animaçò noi stagioneremo l'animazione e noi stagioneremo l'equipe d'animaçò l'equipe d'animaçò e vi ricorda, vi ricorda il nostro padre è un feste